Buongiorno! Non è realtà da dire buongiorno perché ci siamo già svegliate da un po' e abbiamo anche già mangiato il pranzo ma... Ah, il mio dito! Però mi sono svegliata alle 11 e ho fatto un po' di compiti perché devo ancora leggere questo libro di spagnolo ma non l'ho ancora finito. E' l'inizio. Eh? E' l'inizio. E infatti, appunto, non l'ho ancora finito però un po' l'ho letta. E quindi poi oggi pomeriggio usciremo in centro a Treviso ma per ora stiamo un po' qui e io se riesco, se ho voglia e ho le forze faccio altri compiti ma non penso di riuscirci. E poi ci prepareremo perché adesso siamo ancora tutte in pigiama. Bene, siamo pronti per uscire. Ciao! E stiamo andando intanto a prenderci una centrifuga al solito posto e questa volta siamo in gruppo e infatti dopo vi farò vedere il gruppetto. E stiamo andando per le vidi di Treviso in cerca anche delle mie vans nere che dovevo prendere, che non ho ancora preso e spero di trovarle. E adesso è centrifuga time. Siamo qua, dice l'Anastasia, di Francesca, poi c'è sempre la Laura e la Cleo. Abbiamo due frullati fragole e banana, una spremuta d'arancia, una centrifuga, non mi ricorda cosa e uno yogurt perché la Cleo è sempre... Con lo yogurt. Lei è sempre yogurt. E è lo stesso bar dell'altra volta che si chiama veramente Bottega del Caffè. Grazie a chiunque l'avete iscritto su Asp. Esatto. No, su Asp o su YouTube, lo mi ricordo. La riprende mentre mangio. Bene. Siamo tornate a casa e ovviamente, visto che io sono super fortunata, non ho trovato le vans. Perché siamo andate in due negozi, uno era chiuso e uno ce l'aveva solo da uomo, perfetto. Quindi sono continuamente alla ricerca di queste vans tutte nere e so già che non le troverò mai. E comunque adesso siamo appunto a casa perché stasera rimaniamo qui a casa. E ovviamente sono stanca perché non bisogna neanche dirlo ormai. E poi è illuminata dal tramonto. E qua c'è un sole. Aspettami se sei arancione. Sei arancione. C'è un sole molto accecoso perché sono le sette passate quindi il sole sta già tramontando. E adesso mi butto su qua. Su qua. E dormo. Allora, penso che il vlog di oggi sia durato due secondi. Perché, non lo so perché, ma certi giorni... Che cavolo volete? Certi giorni... Ok, ok. Ok. Perché certi giorni non so come mai riprendo pochissimo, altri giorni riprendo tantissimo. Quindi mi dispiace se oggi... Quindi mi dispiace se oggi... Domani sia migliore. Spero che domani andremo al cinema come abbiamo programmato, se no vi faremo sapere. Comunque adesso mi struccherò, ci mettiamo qui e dobbiamo montare un video e poi ovviamente... Andremo a letto tardissimo. Come sempre. Quindi buonanotte per dopo, anche se ora non è così tardi. Ciao ciao al vlog di domani. Ciao ciao. Buonanotte. Notte. 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 Buonanotte. Buonanotte.